O mia bella Madonina di te Dominate Milan, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prego per i peccatori ora e per la nostra morte. Amen. Buonasera a tutti. Vi comunico che abbiamo adottato una nuova decisione. Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione, io resto a casa. Metti Geronimo Stilton? Sì. Buongiorno. Un attimo che metto a mio figlio, Geronimo Stilton. Siamo sepolti in casa, segregati in casa. Ciao, sono viva. Incredibilmente, chi l'avrebbe mai detto? Sono verde. Cadavè? Eh grazie, dormo da due settimane, ma non faccio altro. Io sono importata quanti, le mascherine. Così vado a prendere il farmaco di mamma. Ah, un giro in centro, un giro al parco. Ma quanto era? Era tanta roba. E adesso non si può più. Allora, dico io. Si stava tanto bene nel silenzio e io stavo finalmente riuscendo a lavorare e questi che fanno decidono di mettere azzurro a tutto volume per strada. Azzurro, il pomeriggio è troppo! Ah, era alle 18, non era alle 3. Scusate, ho capito male. Scusate. Scusate, ho capito male.